Okinawa a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite finalmente nella mappa oggi signori e come non potevo mettere il cavaliere nero perché si ragazzi io gioco dalla season 2 del primo capitolo e quindi quest'oggi voglio andare a fare una reaction insieme a voi a quello che sarà questa nuova mappa ma prima di iniziare andiamo a vedere un pochettino il pass battaglia ce lo vediamo proprio al volo intanto che attendiamo il nostro caro Lellino che arriva vediamo giusto le skin principali ok un bel cavaliere white questa volta ci sta molto carino innanzitutto sono meno pagine c'è il bananino bello bananetto si chiama carina vabbè non è male è tipo una banana split regà ci può sta ci può sta non è fantastico ma ok il deltaplano è molto simpatico molto simpatico vediamo un po poi un'altra versione del bananino penso questo al pistacchio al te verde ah al te verde c'è scritto bello vabbè ci sta e questo è il cosa quando scendiamo figo molto tema zuccheri tanti tanti zuccheri questa penso signori che sia la skin più figa del pass è un mix tra la renegade e lynx mi pare si chiamava anche quella lì infatti lynx è rinnegata bella regà questa è veramente molto molto carina non è male andiamo a vedere la prossima ovviamente sarà un'alternativa a quella che in realtà devo dire non mi fa impazzire onestamente poi l'ultima skin c'è omega rock ok mix tra omega e non mi ricordo come si chiamava va bene ho capito quale è e la finale ovviamente omega e lui va bene regà tutto sommato vi devo dire che il pass non è malvagio poteva essere meglio figo questo come deltaplano molto carino poteva essere meglio sì però non ci lamentiamo intanto che attendiamo lello signori voglio ricordarvi che qui sotto in descrizione c'è il link della mia amazon wishlist se volete passarci a darci un'occhiata magari farmi un regalino io ne sono molto molto onorato inoltre c'è il bellissimo sito di kofi dove potete fare una donazione singola o a cadenza mensile sceglietevo il prezzo sceglietevo tutto direi che è molto molto onesto e soprattutto voglio ricordarvi che metterò in palio signori dei pass battaglia per questo evento oggi di fortnite quindi attualmente quando sto registrando questo video siamo arrivati a 2215 iscritti e io confido in voi signori se arriviamo a 2300 io metterò in palio il primo pass e lo regalerò a uno di voi che ovviamente commenterà questo video qui sotto e lasciate soprattutto anche like il secondo pass lo facciamo a 2350 dai facciamo una via di mezzo e poi ne metterò in palio anche un terzo a 2400 iscritti quindi regà ci avete ben 3 pass condividete il video con gli amici commentatelo mettete mi piace fate qualsiasi cosa regà e soprattutto iscrivetevi perchè il pass gratis direi che è molto molto onesto ovvio si andiamo a condotti confusi best place ever bello mamma mia che ricordi io me devo togliere una cuffia se non riesco a parlare bello bello guarda quanta roba c'è lagga un botto mi lagga tutto regà è normalissimo il primo è così eh vabbè il primo game è normale ci sta deve caricare la mappa tutto quanto bello l'autobus è piegato è tirato regà ma c'hanno proprio identica cazzo bello ma c'è io ho i brividi in questo momento sì o no non so tu ma a me mi sta a prendere boh non me ne parlare la mega nostalgia sto per fare una cosa sto per fare una cosa che penso che mi piacerà molto cosa cosa dimmi stai fermo dove sei oh il cesbuglio il cesbuglio sì ma che stai a dire bello no 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 regà c'è forse non state a capire la cazzo di emozione io non so se riesco a farvelo vedere nella webcam cioè c'ho la pelle d'oca c'ho la fottuta pelle d'oca bello madonna quanti ricordi no 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 troppi ricordi troppi il popo del nonno ma funziona il doppio pompa no bro non funziona no ci speravo quello ci speravo cioè io adesso sarò tutto un oh oddio oh roba del genere arrivo arriva piatte vieni che è successo arriva piatte il carrello il carrello sì ma che me stai a dire bello bello bellissimo no 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 c'è regà c'è regà è troppo bello ci hanno messo tutto perfetto guarda vabbè hanno lasciato le meccaniche nuove da una parte ci può stare secondo me perché sennò sarebbe stato troppo lento per come siamo abituati adesso figo le penning machine coi materiali madonna bello dove vogliamo andare dimmi tu pinacoli pinacoli vai namo oh qua solo c'è gente che spara io c'ho anche il rampinello che non c'ho mai preso nell'arbero eccola oh c'è uno atterrato qui da me che stava a fare questo lol lol mega lol guarda pinacoli guarda pinacoli che bella zio c'è uno c'è uno dove ok lo vedo se salta lo prendo non è vero tu sei sceso proprio così a push cattivo guarda dai vuole cattiveria kamikaze si signori cioè io non riesco a giocarsi troppe emozioni tutte insieme ok qua c'è gente qua c'è gente l'elino caro qui sotto c'è gente cioè credo perché li sento sento i passi si perché sono appena caduto sotto ok mi sento un po' impedito regale scusatemi ma a parte sto freddissimo come la morte e poi sono troppo emozionato regale sono troppo 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 emozionato non stanno le fuori entrambi fuori eccolo c'è uno dietro mi sa uh eeeh non ho capito non ho capito non ho capito non avevo il tempo di switchare arma va bene facciamo il secondo tentativo fa bene lo stesso ok vai la mappa io direi che andiamo a parco parco pacifico dai ma la sento così questi erano i due posti preferiti condotti e parco regale svegliatemi se è un sogno perché cioè anzi non mi svegliate tagli non mi svegliate se è un sogno regale perché io voglio rimanere a giocare qua per sempre per sempre cioè peccato che durerà soltanto forse un mese e quello cirosico no non mi dico eh mi sa proprio di si mi sa proprio di si almeno da quel che so potrebbe durare soltanto un mese no no la metta a piagna eh si si infatti già mi sta a venire il magone no rega non ci pensamo pensiamo a divertirci ovviamente signori siccome ci stanno talmente dove cazzo stanno io non lo so qua sopra ci stanno talmente tanti posti da visitare di questa mappa oggi che sono tutti belli facciamo così se voi mi scrivete nei commenti quale posto volete vedere nel prossimo gameplay io cercherò cioè anzi lo farò 100% atterrerò in quel posto si ho trovato il super mega giangherone e me lo bevo pure io sto cercando uno scudino dentro treccato e ho trovato lì ho lanciagranate e lanciarazzi vuoi uno dei due e so contento voglio l'uscitino fammi i kamikaze ok è atterrato uno arriva l'amico che sono l'amico viatelo viatelo easy c'è sta altra gente si si c'è altra gente eccoli ma sono delle pippe questi non sono veri OG oddio in realtà anche io sono OG però sono una pippa si quindi questi sono piccoli particolari guarda facciamo così mi faccio full di legno e ce ne andiamo con il riftatili oh ci si sparano ci sparano si ci sparano eccoli non mi rubare tutte le kill per favore brutta persona con la mitraglietta da lontano ok ci sono riuscito ho capito sta mitraglietta più di 5 metri non arriva che cazzo più che altro fa 5 si faceva tipo 7 9 e roba del genere no era verde ok sono full maz vieni qui vieni qui vieni qui dove vogliamo andare prima di tutto vediamo la mappa si a sponde del saccheggio vai oddio si let's go bello si bello 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 oh c'è gente qua dentro si c'è gente qua dentro vai terrato uno forse provo il pompaio no tra poco dove sta l'amico easy io penso che mi prendo la mitraglietta la mitraglietta la mitraglietta quella merda vabbè si ti preoccupa dai fa male si da vicino forse si vabbè io mi sono preso il pompa del nonno perchè ho visto che il tac fa troppo poco danno eh fa ticchete il tac eh ticchete il tac oh chi sei tu vaffanculo no ho preso danno zio ma l'acqua madonna l'acqua non si può notare esatto oddio quanti ricordi che lentezza gente 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 dove di là ok si li vedo 21 aspetta si corro là 22 gli vado là gli imbocco là non c'ho vita ma gli imbocco là ci provo non cado 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 ci vai si oh il cecchino vecchio no questo era il cecchino merda si non lo voglio ah era il cecchino quello sceno si 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 io me vorrei un attimo cura c'è un nanetto da prendere ho trovato un nano da giardino con un bong in mano ci vuol dire no non c'è un bong si c'è un bong oh non riesco a prendere si si mi sparano c'è uno vabbè ma cioè sono pippe ci aveva anche il compagno eccolo ho raccolto l'ho raccolto pure io forse era una missione cioè oddio le missioni vecchie ti faceva raccogliere i gnomi ti ricordi si si a voglia tutte quante missioni le dico vai oh guarda lì un mega ciagone un mega ciagone e fatelo tu se vuoi che non c'è vita io per lo shield mi prendo questi funghiettini qua ci sono comunque il cilello che ha otto bombe e anche il signor shield se ce ne ha sei e non vorrei dire è proprio schiume oh non sono riuscito a prenderla si che cavolo c'è il mio aimbot è proprio merda questo questo è bravino sembra almeno forse è l'unico semi bravo della lobby oh quanti sono quanti sono quanti sono oh buoni si non ce sto a capire una mazza mi stanno sparando da tutte le parti ok oh e basta devi spammare rotto il cazzo oh l'ho atterrato easy bravo lei non ce l'avevi dietro no no la c'è razzi occhio si che sta qua eh un attimo che c'è un altro team eh c'è un botto di gente si no mi finisce questo pezzo di merda no ah ma il reboot c'è ancora ma che cazzo ma si oh questi sono cattivissimi ma che cosa ma si spetta a giocare a casa madonna un botto c'è eh anche divertitevi un attimo regà ma che c'è regà la vi vede giocate fortnite non la triardà tutta la vita ma io senza parole sì e niente signori che dire purtroppo i triardini ce li siamo portati dietro dal fortnite nuovo ragazzi non fate come questi ragazzi su un fortnite godetevi il gioco godetevi questo mese questo periodo che ci sarà questa mappa godetevela tutta come stiamo a fare io e Lello e come andremo a fare adesso io e Lello perché continueremo a girare tutta la mappa e fa oh bello bello esattamente quindi lasciate like iscrivetevi condividete il video con gli amici e soprattutto fate iscrivete anche loro perché vi ricordo a 2300 iscritti mettete in paio il primo passo 2350 il secondo passo è 2400 mentre no il terzo passo mi ero un attimo sconfusionato con tutti questi numeri però regà dai 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 iscrivetevi tutti tutti e andiamo a spaccare dai regà mi raccomando divertitevi e andate a tagliare nelle bella bello e andate a tagliare di